Sono 16.328 i beni mobili inventariati dall'Ufficio Diocesano dei beni culturali ecclesiastici. Siamo convinti che la custodia del patrimonio artistico, in questo caso di beni mobili dell'Arcidiocesi, sia un servizio per la conoscenza di questi beni, per la fruizione da parte non solo delle nostre comunità ecclesiali, ma dell'intera società civile che fa crescere tutti. Tale inventare azione permette nei momenti di sconvolgimento naturale, come i terremoti, di avere notizie dettagliate sui beni conservati nei singoli edifici sacri, favorendone il recupero e la tutela. Non si può tutelare, non si può valorizzare ciò che non si conosce, quindi è fondamentale questa campagna di catalogazione che la soprintendenza ha avviato già una trentina di anni fa. Oggi l'Arcidiocesi di Chieti ci offre uno strumento di lavoro, uno strumento di tutela, lo offre ai parroci, ma lo offre anche a noi funzionari di soprintendenza, in una fase in cui giustamente lei stava richiamando la necessità, in momenti anche di calamità, di avere ben presente ciò che va tutelato, ciò che va anche trasferito in situazioni in cui il contenitore non è più in grado appunto di assicurare la conservazione del bene. Essendo legali rappresentanti degli enti, si assume una responsabilità non solo verso la comunità religiosa, ma anche con penalità civile. Questo è possibile proprio perché si è lavorato tanto in questi anni e oggi possiamo dire che abbiamo messo un punto fisso. Fra i beni, di cui non si conosce il valore economico totale, c'è il messale Borgia. È uno dei tantissimi beni culturali che ha un incommensurabile valore anche, direi quasi in termini economici, ma naturalmente il valore artistico è fondamentale perché viene considerato il capolavoro della miniatura fiorentina degli inizi del XVI secolo.